Questo è Gaetano e il suo rinnovato laboratorio di ceramiche. Loro sono Anna e Rosa, hanno aperto una pasticceria. Lui è Luigi nella sua fabbrica di calzature, ora esporta anche in Brasile. Grazie al Fondo di Garanzia, nell'ultimo anno, oltre 70.000 piccole e medie imprese hanno ottenuto finanziamenti per la loro attività. Lo Stato e i fondi europei garantiscono i finanziamenti per lo sviluppo della tua impresa. Fai come loro, fidati della tua impresa. Consulta il sito fondidigaranzia.it Grazie a tutti.